Una grande mostra importantissima per Pordenone alla riscoperta delle origini, dell'età dell'oro e dello spirito imprenditoriale, creativo e di avanguardia di questo territorio. Venerdì 14 aprile alle ore 18 inaugura a Palazzo Ricchieri Viva Galvani, una prima mostra che espone in tre sale tematiche il cuore delle famose ceramiche pordenonesi col galletto. Un patrimonio enorme formato da monofatti ceramici, bozzetti, prototipi maentrati in produzione e fogli di campionario, conservati nei cavò dei musei civici e ora catalogati e riscoperti. La mostra Galvani non è una mostra qualsiasi perché le ceramiche Galvani raccontano la storia stessa di Pordenone e quindi è una mostra dall'altro significato identitario, del senso di appartenenza della nostra comunità e anche da sua storia quotidiana perché tutti noi abbiamo avuto un piatto, un oggetto in casa della ceramica Galvani, magari in casa dei nostri nonni. D'altro canto però non abbiamo solo la storia ma abbiamo il futuro perché vedrete degli oggetti, dei piatti, dei vasi anche inediti mai esposti prima che raccontano anche una capacità di creatività e di design che è assolutamente avanti. Quindi l'invito è quello di venire a vedere la mostra non solo per scoprire la storia di Pordenone ma anche ai giovani per ispirarsi da questo punto di vista. Infine il significato della mostra è anche un altro, per così dire raccoglie l'identità del nostro territorio e la sua vocazione. La vocazione imprenditoriale è anche quella appunto creativa e artistica. Il tutto si ritrova in questi oggetti. Allora la mostra raccoglie una parte della collezione museale che riguarda la Galvani ed è divisa in tre sezioni. Dovendo pescare tra tantissimi oggetti presenti in questa collezione abbiamo condensato in tre stanze tre momenti particolari della Galvani. Siamo in questo momento nella stanza che raccoglie una piccola parte della produzione degli artisti che hanno collaborato con la Galvani. Poi di là c'è una stanza dove abbiamo fatto un piccolo cappello storico ed esposto dei vasi molto interessanti perché molto contemporanei. E poi c'è una stanza che parla del Galvani quotidiano, di quello che tutti noi abbiamo in qualche maniera conosciuto. Ma un Galvani quotidiano che fa anche parte di qualche cosa di diverso perché ci sono anche dei prototipi dell'azienda. Un'azienda di 150 anni che è stata veramente la storia della città. Un'azienda di 150 anni che è stata una storia della città.